Salve a tutti ragazzi e bentornati al canale di Toxigamer88 Riprendiamo su Elder Scrolls 4 Oblivion Continua la nostra esplorazione totale Il nostro personaggio è già bello che è pronto Ora in questo video volevo fare Prima di tutto Un nuovo incantesimo per aumentare la velocità Visto che ci piace Ci piace il personaggio bello leggetro e veloce Quindi fare un incantesimo piuma di livello intermedio E un incantesimo di fortifica, attributo, velocità Sperando che non mi intacchi le mie abilità principali Quindi facciamo tutto molto veloce Fortifica, attributo, velocità Eccoli qui A sé 25 e 30 punti Lo faccio durare Vediamo È la peppa È la peppa Richiede il recupero 75 Perché giustamente Sua madre è puttana Eh Ok No Non ci siamo Questi 20 punti Vabbè 60 secondi Ce la dovrebbe fare Ma assolutamente no Mmm Non va Non va Non va Ok Fortifica 18 punti 50 secondi Dovrebbe farcela Perfetto Fortifica Velocità Media E questo abbiamo fatto Adesso ci creiamo un Bellissimo Piume A sé Grandezza 100 Non consuma niente Eh Ok Richiede alterazione 25 Eh Piume Massima Ok Alterazione Sparando a dio Che non sia Nelle nostre abilità Principali E invece Si Ah ma è a 100 Quindi non ce l'ha fatto un cazzo Ottimo Ottimo Quindi possiamo metterci un bellissimo setup Veloce Eh Anello Piume Non ci serve Possiamo utilizzare Un anello Magica Che ci dà altri 50 punti O un anello Vitalità E Volontà Abbiamo un anello invece Vitalità Che ci dà Resiste a malattia Veleno e palare Si 100% Ottimo Trovate in un cancello di Oblivion Eh Magica O volontà Volontà Quindi noi abbiamo adesso 550 punti Cioè Spaziale Cosa almeno Sapete Gli incantesimi Che utilizzo Mi era stato chiesto L'incantesimo Per fare cadere I nemici Danno energia medio Eh Fa un danno energia Di 100 punti Per 5 secondi A tocca Non utilizzo A bersaglio Perché tanto Alla fin fine Sono Sempre più veloci Allora Nello scorso video Avevamo esplorato Dasekmur Adesso c'era anche Un'altra Miniera Qui vicino Da esplorare Adesso Vediamo Se la ritroviamo Eccola Eccola E' bellissima L'esplorazione totale Mi intriga Sempre In un Gioco Di questo Calibro Evochiamo Il nostro Adesso Vi faccio vedere Cosa succede Se metto Forti Che fica Volontà Così siamo Più veloci Arriviamo Adesso a Velocità 106 Ma adesso Metterò anche Un incantesimo Bellissimo Quello della piuma Vediamo Peso piuma No Piuma massima Ah vabbè Già ce l'avevo Guardate come corre Santi Dio E' un proiettile Figata Oh cazzo Ci sono nemici Che paura Vai 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 Cosa succede Come abbattiamo Sto bastardo Guardate Un altro colpo Però ci vuole Perché sono belli Resistenti Adesso dovrebbe Afflosciarsi Come una Merda E muore E muore Dente di orco Non ci serve Qui c'è una miniera Follia di belletor Un nome molto Rassicurante Eccola qui E si va E si va Ragazzi Andiamo a rompere Curi Comunque se volete Aumentare l'alterazione Ci sono gli incantesimi Piuma Che sono veramente Ottimi Scrigno Pepita d'oro La prendiamo È abbastanza utile Oh buongiorno Evoco lui In questo caso Io faccio così Volevi Allora si crede Invencibile Ma sei morto Arcodedric Lo prendo È importante Nello scrigno Non c'è nulla Quindi oggi Esploreremo Questa follia Di belletor Belletor Scusate Oh Uno Due Guardate Vedete questo È velocissimo Ma adesso Lo fottiamo È caduto Come uno stronzo Uno Due Ed è morto Ha una Bellissima Colazza elfica Ma Non si serve Assolutamente Prendo i Grimaldelli Anche se Non ce n'è proprio Tutta sta necessità Però vabbè Posso ne curare Non ci serve Nemmeno Abbiamo un anello Che è spaventoso Curiamoci Aspettiamo Che si ricarica Anche la mana Ok Adesso siamo un po' Più lenti Perché non ho L'incantesimo Della piuma Però vabbè Lo castiamo Subito Quindi per due minuti Noi siamo veramente Leggerissimi Sperando Sperando che in questo Contenuto Guardatelo 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 Ah Troppo veloce L'arma è scarica Questo è un problema Non troppo Un altro Arco Daedric Vabbè Non ci serve Facciamo una cosetta Evoco lui 1 2 3 Ok Abbiamo l'arma Di nuovo carica Yes O meglio La stella di azura È carica Fortifica volontà Ci serve Come il pane Ragazzi Il fortifica volontà È il pane quotidiano La cosa brutta Sapete qual è Che è questo livello Di Difficoltà Guardalo 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 Oh Sei caduto Stupido Preso Adesso lui Cadere anche a lui 1 2 Ok Sono morti Prima ancora Che L'incantesimo Gli Azzerasse la mana L'energia Scusatemi Ok Sempre Tasto 1 In questo modo Riesco a Far salire Anche il recupero Perché il mio Fortifica Attributo Qualsiasi Incantesimo Fortifica Attributo Ci permette Di Aumentare Il livello Nella Nella scuola Di recupero Quindi Tra Incantesimi Di cura E un fortifica Volontà Di questa portata Potete capire Bene Che Siamo messi Molto 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 Bene Ripariamo Anche le armi Tutto rapido E veloce Guardate Ad esempio Lì ce n'è uno Guardate Ho sbagliato Però Ah no L'ho presa 1 2 Ed è morto Uguale Corazza Dimitril È una bellissima Corazza Possiamo anche Riposare Ma non avrebbe Senso Riposare Mi piace Giocare Adesso In questa maniera Non vedo l'ora Di fortificare E recupero Portarlo A un livello Talmente elevato Perché noi Adesso abbiamo 135 Di volontà Io la vorrei Portare Quasi a 200 Immaginate La potenza Del nostro Personaggio Salvo Andiamo La furtività Beh Piano Piano Cioè per la furtività Ormai nemmeno Grossi problemi Mi metto un'armatura Camaleonte Comincio a girare Per qualche dungeon Loro manco Mi beccano E sono Cazzi loro Apriamo qui Miniere di Follia di Bellethor Ottimo Per ora Abbiamo trovato Tutti Dungeon Belli Grandi Un lupo Vabbè Vai Vai È esploso Il cane Cioè poverino Ne vochiamo lui È esploso Un cane Cioè Guardatelo Ok Ecco lì c'è la signorina Che si crede invincibile Forza Vieni qui Vieni qui Cazzo è una puttana Galattica Vieni qui Oh scusa Ti sono venute le tue cose Problema risolta Sei morta Un oggetto invece Difficile da ottenere È il dannatissimo Elmo Deidrick Non so nemmeno io come Oh Ce n'è un altro qui Ma buongiorno Dove cazzo Guardate Si Si insinua Uno Due Cioè proprio Gli squagliamo Come la merda Vabbè Prendiamola La colazza di vetro Vediamo se sta Bagascia Cia stivali di vetro Scudo di vetro Lo prendo Tanto è leggerissimo Ti togli dei coglioni Grazie Ripristiniamo mana In mana In mana Ok Lì c'è gente Noi siamo tipo Dei carri armati Cioè dalla Guardate qui Adesso arriviamo qui Ciao Cazzo Ha schifato il mio incanto Cazzo Qua sono in tre Porca puttana Merda Merda Allora in questi casi Visto a loro sono tre Sigredo Invincibili Ripristina salute Ripristina magica E sbattetevi nei coglioni Uno Due Uno è andato Evochiamo Il nostro compagno Cos'è? Uno Li facciamo afflosciare Tutte e due Sti bastardi Eccoli qui Cos'è? Non ti senti più le gambe? Cos'è? Dai Ma stai zitta Ma stai zitta E dai cadi Guarda sta bagascia Ma muorici Stronza di merda E l'abbiamo uccisa Cioè non ci ha capito un cazzo È morto Prendiamo tutto Ce n'è una Eh Christian Cocco Togliti Ci serve ripristinare la stella di azura Questa cosa è importantissima Perché abbiamo dato un po' di colpi Stesso discorso Uno Due Tre Bastano due colpi Due colpi Così pochi Uh Sto bastardo agli stivali I gambali E gli stivali Perfetto Ci siamo fatti Ci mancano soltanto i guanti Credo Vediamo Allora Corazza Gambali Guanti Scudo Stivali Ci manca allora soltanto l'elmo Di vetro Vabbè Ripristiniamo la nostra armatura Che male non fa Cioè è bellissima Cioè abbiamo quasi finito Oh sì Ti voglio bello caldo Caldo è pronto a combattere Ma qui c'è più niente O abbiamo finito? No abbiamo finito No 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 Che cazzo dico? Caverna di follia Cioè spettacolo Tre livelli Dai 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 cazzo Ci serve il pestello maestro L'altro Niente Repite Soldi Ci stanno dando solo soldi Cioè non che la cosa mi faccia schifo Però non ci facciamo un cazzo Cioè Oh buongiorno Guarda questo gatto di merda Togliti Affloscia come la merda Che sei Io penso a lui Guarda sto elfo Ma cadi Perché attacchi me? Perché tua madre è troia Minchia danno Perfetto Abbiamo freccia del sacrificio Mi aspettavo qualcosa di più Corazza I guanti elfici Il set elfico non lo so se ce l'ho Calzoni I calzoni Per me sono quelli che si mangiano Adesso è una cosa stranissima Però Oh Screen No le frecce non ci servono Non lo possiamo Non lo usiamo l'arco Ragazzi è inutile Cioè siamo in un In una situazione strana Cazzo Però adesso voglio crearci il panico Qua dentro Ora Come evocazione Noi abbiamo qualcosa di veramente spaziale Perché noi abbiamo Questo per 95 secondi E per 60 secondi Possiamo evocare Tipo sto coccodrillo gigante Che fa paura Che dite Lo proviamo per un pochettino Lo mettiamo al posto del Massi Mettiamo al posto di questo Voglio fare Un test La stella di azzurro È carica Salvo Sì sì È carico È carico Ehm Sette Evochiamo sto coccodrillo gigante Ora È proprio me Fallo afflosciare Non ho magica Ok Uno Due Por un deadroot Consumiamo la stella di azzurro Ok Ci da Ok perfetto Possiamo adesso evocare Il coccodrillo gigante O Deadroot Come cazzo lo chiamano loro Cioè immaginate La paura Nei nemici A trovarsi Un fottuto Deadroot Qua dentro Cioè Si cacaranno addosso Cioè Gli facciamo venire Il ciclo dal culo Cioè per forza Sarà Fighissimo Dai 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 Ok Qui c'è qualcuno morto Avventuriero morto Nemmeno una quest Niente Ok Vai deadroot Fagli vedere Chi cazzo sei Che ha quante Cioè Io a vedere un cosa del genere Mi cagerei sotto Guarda quello Guardalo 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 Sì sì Vacci con il tuo archetto Di merda Cazzo Si sta caricando Vai così No ma io non ho Pora di morire No No si uccidilo Guarda sto Bastardo Utilizzo un arco Incantato Vai picchialo Intanto mi vado A raccattare Roba Per chi Volesse sapere Che Grimaldello Usa la chiave Dello scheletro C'è un Grimaldello Che non si spacca mai Mamma mia L'ha letteralmente Spazzato via Come la merda Bellissimo Allora Noi abbiamo Cose elfi Che è qui Ma assolutamente Non è Non mi piacere Del set elfi Io amo la spada È bellissimo Tutto il resto Fa schifo al cazzo Vai Vai coccodrillo Fagli vedere Chi cazzo sei Così Caricati Si sta buffando Ha difficoltà Per entrare Nella porta Perché è leggermente Grosso Vai Guardalo È tipo avere Un Panzer Tiger Qui dentro È fighissimo E non ci costa Nemmeno tanto Anzi Lo evoco Qui Dovete calcolare Che ci voglio Ah ma siamo Ritornati Dove eravamo Prima C'è assurdo Cosa Abbiamo fatto il giro E nel ponte Come si ci arriva Cioè Non si può salire Cioè Abbiamo già esplorato Tutto No Volevo uccidere Altre persone Fagli capire Che la vita È bella Ah Eccoli Guardali E come se ci sale Sopra No no Devo capirlo Cioè voglio salire Anche io Guardali Il nostro Deadrot Cerca di scalare La piramide sociale Sant'indio Se ne becchiamo Uno Gli spacchiamo Il culo Cioè voglio capire Come arrivare lì È seccante Questa cosa Facciamoci due giri Perché tanto Non ci sono altre strade Cioè non c'è Qualche botola Che mi permette Di arrivare lì sopra Cioè solo che Si ci può arrivare Cioè se ci hanno Pensato i nemici I programmatori Hanno messo in conto Che Si ci possa salire Almeno credo Vediamo Proviamo da qui Dai Io me lo evoco Sempre un Deadrot C'è sto avventuriero Morto qui Che non servo A un emerito cazzo C'è qualche Passaggio segreto No C'è qualcuno Che si sta stiracchiando Le gambe Ma non c'è modo Per arrivare lì Quindi vorrei capire Come fare Cioè non c'è Un punto d'accesso Ce l'hanno messi qua Così Alla cazzo di cane Così tanto per Beh io non posso salirci Quindi vorrei capire Come si ci arriva Scendi Cioè nemmeno loro Sanno come scendere Cioè i programmatori Sanno detto Vabbè ci mettiamo I nemici qua sopra Così tanto per Ah ma hanno gli archi Eh noi non possiamo Attaccarli Cioè dalla distanza È impossibile Non abbiamo gli incantesimi Dalla distanza Si perderebbe tutto Veramente una giornata Posso vedere se c'è Qualche passaggio segreto Però Non c'è Non c'è un modo Per arrivare qui Cioè questo passa sotto Come è giusto che sia Nemmeno che non posso Entrare da qui Diamo un'ultima Occhiata Ma Difficile la vedo Molto molto difficile Vedete Arrivati qui Mi sarei aspettato Che ci fosse Un passaggio segreto Ma non c'è C'è nemmeno una botola Niente C'è un peccato Dobbiamo lasciare le cose Spada corta Ma È stupida Questa cosa Tipo Questo mi sembrava Una porta Se mi Se mi convinco Che sia una porta È assurdo Scusate Possiamo fare un test Per vedere Se ho un errore Di programmazione O meno Vediamo se il no clip Funziona qui Non mi ricordo come si fanno Non mi ricordo il tasto per volare Dannazione C'era qualcosa Boh Vediamo No Notifiche di scale Il no Non mi dice niente Nella console di comando Quindi Premo F9 Usciamo Non ha senso venire qui Cioè non c'è modo Per arrivare lì sopra Infatti Ottimo Un'altra zona Che se ne va La mappa Si va riempiendo Di locazioni Posti strani Però ancora Un troll Non l'abbiamo trovato Fatemi sapere nei commenti Dove trovare un troll Questo è importante Perché ci serve Per sbloccare la missione Io lo devo dire Ogni episodio Se mi dice Ci sono nemici Poi qui Ma dove E io evoco Un dead rot Tanto per Evochiamo un dead rot Così Random Se lui si carica Ah Eccolo lì uno Così piccolo Ah Un attimino Si è Staccato Si è abilitato Il bloom Ok Ah Eccoli qui Vabbè Li possiamo uccidere Cazzo Stanno buscando Stanno proprio Legnate Cioè Potevate starvi Lì al sicuro E sopravvivere Invece Se avrete voluti Venire qui E morire come Le merde Vabbè Io venevo Con un altro Tanto Ce lo dovresti fare A battere un coccodrillo Giusto Vai Vai Picchialo Guardalo Guardalo Che carino L'arciere Che prova A vivere Mamma mia Pugno L'ha letteralmente Schiacciato Come una merda Signore Dio L'armatura In mitrile La prendo Dai Se troviamo i guanti E l'elmo Siamo a posto Uh C'hai anche un pugnale Dedrick Vieni qui Jennifer Jennifer Dammi il tuo pugnale Dammi il tuo pugnale Cioè voi immaginate Un arciere Che vuole abbattere Un Dedroth Con le frecce Cioè Tu hai problemi psicologici Tu non puoi vincere Contro un mostro del genere In compenso Abbiamo ucciso tutti Qua dentro Guardate che bello Sono tutti morti Gambali Corazza elfica Ma si Prendiamola pure Scudo elfico Pure C'è altro L'arco Dedrick Ma si Prendiamolo Tanto siamo peggio Di una discarica Ambulante Quindi ci dovremmo fare Ad arrivare a casa In tempo Stivali di mitrile Ce li ho Mi mancano i guanti Di mitrile Dannazione Questi due Si sono inchiappettati A vicenda Eccitante Come cosa E vabbè Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Tu Mi dai qualcosa Ti rendi utile Ma questo C'è pure i calzoni Ma Vi ripeto I calzoni Si mangiano Non si indossano Ti possono fare A mezzaluna Per chi non sa Che cosa sono i calzoni Nella nostra Cultura Culinaria Disiscrivetevi dal canale Datevi fuoco Ed è giusto così Cioè Non è possibile Non sapere le basi Perfetto Abbiamo Fatto Un Tanto Peccato che non siamo riusciti a trovare L'alambicco maestro E la storta maestro Cioè ci servono questi due Strumenti Per massimizzare L'effetto delle pozioni Perché abbiamo Alchimia al 100 Giustamente Le pozioni dureranno di più Avranno effetti Migliori Non so di quanto Però L'imperatore L'abbiamo lasciato qui Nel porto Perché giustamente È un Pezzo di merda Cioè non ha fatto un cazzo Per tutta La durata Del Del gameplay Si è stato a casa A masturbarsi Da solo Con il suo libro Però Vabbè Quelli sono Cazzi suoi E ci diceva No vai tu lì Vai a combattere Contro E Caverne Mostri No devi soltanto Distruggere un Ah ma noi abbiamo gli elmi Dov'è Dov'è la nostra corazza Magica Scudo Di Dedrick Magico Eccolo qua Abbiamo anche uno scudo mondano Va bene Non c'è niente Siamo di nuovo Leggeri Qualche pepita d'oro Va bene Rimettiamo lo scudo Ci garantisce Altri 50 punti A magica Questo è il mio set Per chi non lo Conosce Un set completamente Magica Il massimo Che riesco a raggiungere Ben Se togliamo L'anello De volontà E mettiamo L'anello Magica E arriva A 600 punti Magica E sono essenziali Per affrontare il gioco A questa difficoltà Quindi ragazzi Si termina con questo episodio E noi ci vediamo Col prossimo video Di Deldesk Alla prossima Alla prossima Alla prossima